Cari amici di Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9 e un minuto di giovedì 24 agosto 2023. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guida i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della Conaglia della Storia. Apriamo con il nostro pensiero spirituale. Cari amici, oggi vorrei concentrare su un passaggio fondamentale nel cammino di conversione, che è il pentimento dei peccati. E voi sapete che non solo nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento, diciamo, è viva la Divina Misericordia. Anzi, il tema della Misericordia Divina molte volte è ricorrente non solo nei Salmi, nei testi profetici, ma nella stessa storia di Israele, che è una storia, possiamo dire, di smandamenti e di pentimenti, di punizioni e di, come dire, riprese. Per cui possiamo dire che in tutta la storia della salvezza, dall'inizio fino all'oggi, si ripete costantemente la parabola fino al prodigo. E questa, dunque, è una prospettiva che è molto importante, perché si è un po' offuscata nei nostri giorni sul fatto che è stata data dalla Divina Misericordia una interpretazione che non è esattamente quella biblica, non è quella, per esempio, della parabola del figlio al prodigo, ma è stata data e viene data molte volte, con molta vaccinoneria della Divina Misericordia, una, come dire, una interpretazione secondo la quale Dio perdonerebbe i peccati sempre e in qualsiasi situazione, senza sottolineare che invece in tutta la storia della salvezza, quindi in tutta la Divina Rivelazione, il pentimento, il perdono dei peccati è successivo al pentimento, cioè il perdono dei peccati è l'atto di misericordia per eccellenza, perché per interpretarlo dobbiamo fare riferimento alla croce, cioè i peccati che abbiamo commesso ci vengono perdonati, purché ci pentiamo, ma poi la ragione profonda per cui ci vengono perdonati è di carattere cristologico, cioè perché Cristo è l'agnello di Dio che ha preso su di sé i peccati del mondo, li ha spiati per nostro amore sulla croce, questo era già chiarissimo nel Vangelo fino dalle origini, quando appunto Gesù, come ci racconta il Vangelo di San Giovanni, è sceso in mezzo ai peccatori, ha preso su di sé i peccati di tutti gli uomini e ovviamente il fatto che sia sceso in mezzo ai peccatori e si è fatto battezzato da Giovanni, la interpretazione teologica corretta è proprio questa, cioè ha preso su di sé i peccati di tutti gli uomini e di tutti i tempi, anche i miei peccati, i tuoi peccati, i nostri peccati personali, li ha preso di sé, li ha spiati lui per nostro amore, detto in termini molto semplici, ha pagato lui i nostri debiti nei confronti di Dio, quindi non c'è dubbio che da questo punto di vista la Divina Misericordia è veramente infinita, è veramente infinita nel senso che non c'è nessun peccato che Cristo non abbia spiato e quindi non c'è nessun peccato che non possa essere perdonato, se c'è però il pentimento è la decisione di non pecare più. Ora, quali sono, mentre il messaggio della Divina Misericordia che, come sappiamo, è stato rinverdito da Gesù stesso attraverso le rivelazioni fatte e attraverso Santa Faustina Kowalska, di cui noi qui abbiamo letto il diario fin dall'inizio quando San Giovanni Paolo si è conosce l'ha fatta conoscere. Ed è un diario attraverso il quale veramente abbiamo scoperto una dimensione di Dio che si era un po' offuscata negli anni precedenti, cioè anche a causa del jansenismo. Per cui, diciamo, poi un jansenismo esistenziale che sussiste tuttora, come capita quando parli con determinate persone che ti dicono ho fatto peccati così gravi che Dio non mi li può perdonare. Questo è un fatto che accade non troppo di rado, è una situazione esistenziale di chi è preso dal complesso di colpa, poi non vede più la Divina Misericordia. Quindi direi che questa deliberazione della Divina Misericordia attraverso il diario di Santa Faustina Kowalska ci ha rasserenato, non c'è dubbio, ci ha confortato, ma va collocata nel contesto globale, cioè il cammino di conversione è un cammino che prevede questi passi ben precisi, cioè la consapevolezza di aver peccato, la consapevolezza della gravità del peccato e poi da lì il pentimento per aver peccato e poi la decisione di non peccare e poi lì si aprono per così più risorgenti inesauribili dalla Divina Misericordia. Allora però questa mattina volevo soffermare sul pentimento dei peccati, cioè perché pentirsi? Voi sapete che anche il pentimento poi è stata una espressione che è entrata anche nell'ordinamento giuridico, i pentiti di mafia, i pentiti di vario genere, sono pentimenti quelli di carattere sociale e politico che sono molto semplicemente delle mosse tattiche per muoversi, ma in realtà il pentimento di carattere teologico, di carattere religioso è qualcosa di molto profondo e riguarda e riguarda, e questo è il punto che volevo sottolineare, riguarda le offese che abbiamo fatto a Dio. Cioè noi a volte ci pentiamo dei peccati, abbiamo fatto male a questo, ho fatto male all'altro, ho fatto ingiusto, ho fatto male a quella persona, a questa altra persona e c'è anche un pentimento sincero, vero. Però, però, cari amici, dobbiamo scoprire la dimensione cristologica del pentimento. Cioè il pentimento è una... ha come riferimento, prima di tutto, la persona di Gesù Cristo. Cioè, come dice l'atto di dolore, o anche con la bellissima preghiera che si usa per dire in tante parti, o Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. Non ti avessi mai offeso. E questa è anche quella dimensione del pentimento che Gesù ha rivelato non solo in Santa Postina Covasca, ma soprattutto, direi, questa tipica dimensione, proprio attraverso le rivelazioni di Santa Margherita Maria alla Cocca, e poi anche attraverso Sua Lucia, quando appunto Gesù ha voluto istituire i sabati riparatrici, alle offese fatte al cuore di Gesù di Maria. Anzi, questa tematica delle offese fatte al cuore di Gesù di Maria ci riportano a quella che è la visione divina del pentimento. Cioè il pentimento deve essere un pentimento, prima di tutto, per quello che... per come noi abbiamo trattato Dio. non ci siamo comportati da figli, lo abbiamo offeso, lo abbiamo, come dire, emarginato dalla nostra vita, abbiamo disobbedito i Suoi comandamenti, ci siamo dimostrati dei figli scapestrati e egoisti. Poi, senza contare tutto il resto, quando abbiamo combattuto contro Dio, abbiamo diffuso il male, abbiamo militato contro Dio insieme all'angelo ribelle. Cioè, dobbiamo riacquistare questa dimensione del peccato dal punto di vista teologico, cioè come pentirsi del nostro comportamento verso Dio, verso il suo amore, verso il suo cuore. Anche Gesù, che appare in coronato di spine, a Santa Maria della Costa, a indicare cosa sono i peccati. I peccati sono fese, spine, nel cuore di Cristo. Sono, pensate, cari amici, questo episodio che è bellissimo del Vangelo, perché è un episodio vissuto da Pietro, che in questo momento ha tramito il Signore per paura, per pusillanimità, perché non era un eroe, quanto coraggio in quel momento. Poi, quindi è rinnegato, non conosco quell'uomo, ho detto, durante il giovedì santo, dopo la cattura di Gesù, non conosco quell'uomo, ho detto. E Gesù l'ha trafitto con uno sguardo. Cioè, Gesù, quella negazione ha colpito Gesù. Cioè, è il tradimento di un'amicizia. È il tradimento di un rapporto d'amore fra la creatura e il creatore, poi. Fra noi, che siamo le pecorelle, il nostro buon pastore, Dio, nostro padre. E con lo sguardo che ha trafitto il cuore di Pietro, poi l'ha fatto piangere, esattamente, è esattamente, ci riporta la vera dimensione del peccato. Che è un'offesa fatta a Dio, prima di tutto, e comunque è un'offesa fatta a Dio, sia pur indirettamente, quando questa nostra offesa colpisce i fratelli. Cioè, il peccato è sempre contro Dio. È sempre qualcosa che facciamo contro Dio. Per cui non possiamo dire che amiamo Dio, se poi facciamo del male agli altri. Facendo del male agli altri, come facendo del bene agli altri, poi facciamo del bene, come ha detto Gesù, tutto quello che avete fatto a questi piccoli miei, non ve lo avete fatto a me. E tutto quello che non avete fatto a questi che avevano fame, avevano sede, non lo avete fatto a me. Allora, cari amici, nel nostro cammino di conversione, dobbiamo puntare gli occhi su Cristo in croce, come ci invita a fare Caterina d'Alsiena, che dice, chi è quello stolto bestiale che, vedendosi così amato, non riami. Cioè, nella croce noi vediamo l'infinito amore di Cristo per noi. Ha preso su di sé i nostri peccati, le spiate per il nostro amore sulla croce. Ci ha ottenuto la redenzione, per cui Gesù poi, apparendo agli apposti del Cenacolo, ha detto, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Allora, se noi entriamo in questa dimensione del pentimento come un rapporto d'amore tradito nei confronti di Dio, pensiamo al rinnegamento di Pietro, pensiamo al tradimento di Giuda. Cioè, sono peccati contro il figlio dell'uomo, cioè il figlio di Dio fatto uomo. E anche i nostri peccati sono sempre peccati che colpiscono il cuore di Cristo. Quello di sua madre, che in un bellissimo messaggio, il 25 maggio del 1984, ha detto, il mio cuore versa lacrime di sangue per ogni mio figlio che si ripete nel peccato. Anche queste lacrimazioni, che sono tante, che noi nelle storie mariane soprattutto leggiamo, cioè le lacrimazioni di sangue della Madonna, il cuore trafitto che versa sangue, eccetera, ci portano alla dimensione del peccato, che è un'offesa diretta a Dio. E a chi è con Dio, come lo è la Vagina Maria. E perciò, quando noi prepariamo la confessione, noi dobbiamo metterci di fronte, come ha detto la Madonna, per mettere in mano la croce. Metterci di fronte alla croce, vedere quanto siamo amati, tanto che Cristo ha preso di sé i nostri peccati e li ha spiati per il nostro amore, e come noi invece lo abbiamo offeso. Non siamo stati fedeli. Non abbiamo onorato l'amicizia. Non abbiamo onorato la figlioranza. E' bellissimo questo riguardo, come mette bene in evidenza la dimensione teologica del peccato, quello che dice il frio al prodigo, quando fa il percorso del ritorno, arriva davanti al padre che lo attendeva, e dice padre, ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Mettimi almeno fra i servi della tua casa. Mentre stava parlando, quasi gli toglie la parola il padre, lo abbraccia e fa esplodere la divina misericordia. Lo riabilita completamente nella dimensione di figlio che aveva perduto. Però prima ha fatto l'atto del pentimento giusto. Cioè padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più di onde si è chiamato mio figlio. E questo è il pentimento che rimette i peccati, cari amici. E ricordatevi che se manca il pentimento, se manca il pentimento e se manca la decisione di non peccare più, una decisione sufficiente perlomeno sia pure compatibile alla nostra debolezza del momento, perché per guarire il nostro libero arbitrio indebolito dal peccato, bisogno di tempo, non c'è dubbio al riguardo. Ma se mancano questi due elementi, anche la soluzione non è efficace. Perché? Perché la soluzione trova un cuore che è ancora chiuso, un cuore che nel suo è pentito. Dovremmo riflettere su questo argomento, fino a proprio contrario, è un argomento teologico tradizionale nella predicazione della Chiesa, che è comunque nella Saga Scrittura, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e cioè che senza il pentimento dei peccati, e l'impegno a non peccare più, la confessione è invalida. Questo ovviamente poi la validità non va misurata in termini giuridici, ma in termini esistenziali, cioè alla fine tu esci fuori dalla confessione che sei come prima, perché non ti sei pentito. Ma questo è vero anche nei rapporti umani, insomma. Quando uno si è pentito, la situazione di rottura rimane come prima. Solo se uno si è pentito, ha aperto il cuore, chiede perdono e l'umiltà, allora sì che la situazione viene sanata. Ecco, cari amici, proprio perché le conversioni non diventino, come dire, una cosa superficiale, ma se non veramente il cammino della croce, il cammino nel quale noi crocifiggiamo noi stessi il male che abbiamo compiuto, come dice San Paolo, bisogna morire al peccato per risorgere con Cristo. Si muore al peccato col pentimento, con la decisione di non peccare più. Allora, questo è il messaggio del pensiero di questa mattina, cari amici. Ora, il pentimento, questi due elementi, attenzione, del pentimento dei peccati, del proposito di non peccare più, dovrebbero essere elementi giornalieri. Giornalieri, cioè in poche parole. Quando noi andiamo a letto la sera, dicevamo la pariera davanti alla croce, o Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso, o mio caro buon Gesù, con la tua santa grazia, non ti voglio offendere più, perché ti amo sopra ogni cosa. Oppure, atto di dolore, mio Dio mi pento, mi dolgo, dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, li odio e li detesto, perché ho offeso te, infinitamente buono, è degno di essere amato sopra ogni cosa, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti più, eccetera, eccetera, cari amici. Allora, vedete che ci sono questi due elementi, pentimento e proposito. Dovrebbe essere la nostra preghiera quotidiana, in modo che poi nella confessione siamo già pronti a ricevere la soluzione, non abbiamo bisogno, cioè, c'è già questa preparazione remota che ci prepara appunto a ricevere questo sacramento, che allora sì, il sacramento della divina misericordia, perché i cuori sono aperti. Bene, carissimi, chiudiamo, come sapete, c'è la notizia del giorno che è rimbalzata sui giornali e non può essere assolutamente diciamo trascurata ed è il fatto che l'escuoco di Putin, Prigozhin, con alcuni suoi collaboratori più importanti era su un aereo che è precipitato, imprevisamente precipitato, non sappiamo se è per un'esplosione interna o colpito da un missile esterno, comunque, Putin ha mantenuto la parola, ha detto che queste cose lui non le tollerava e ha arricchito la sua lunga carriera di omicidi con questo qui che è uno dei più spettacolari cari amici che farà perfino attrivitire leggere articoli di questo genere perché noi stiamo qui a parlare di chissà che cosa poi vediamo cioè voglio dire non so per carità ma potrei la candela in mano finché vuole ma non va molto non salirà molto in alto con questa catena di omicidi che ha messo che ha in allenato sono decine e decine e decine come se ritorniamo al fatto di questa notte i giornali che ne parlano per notizie che arrivano dalle fonti sono soprattutto i giornaloni però gli altri giornali c'erano alcuni neanche hanno il titolo quindi figuriamoci è accaduto poche ore fa e solamente i Corriere e la Repubblica stanno sia pure in aggiornamento dando le notizie più importanti io dedicherò questo tempo proprio a questo argomento perché ovviamente ti dice due cose primo che siamo diciamo così in un contesto tipico delle dittature dove tutti quelli che dissentono vengono imprigionati uccisi se qualcuno avesse dei dubbi può anche togliersi se vuole e poi l'altro messaggio che invece Putin vuol dare è che in Russia comanda lui e gli altri devono rigare i dritti poi noi preghiamo per le anime di tutti perché alla fine come dice il Papa siamo tutti fratelli siamo tutti creati da Dio quindi cioè evidentemente dal punto di vista della fede non esistono colori politici esistono le persone che o vanno in paradiso o vanno all'inferno e quindi o vanno in purgatorio e quindi è proprio nel momento in momenti come questi che bisogna essere misericordiosi diciamo sul piano della compassione per come tragicamente finiscono le vite sbagliate queste sono vite sbagliate allora vediamo io ho preso gli articoli di Repubblica del Corriere perché sono gli unici che sono diciamo non scopiazzati ma vengono dalle fonti dell'informazione internazionale da tutta parte non è che sappiamo tutto e come non è che sappiamo tutto e che sappiamo come dovremmo quello che è veramente accaduto però cerchiamo di sapere qualcosa almeno questo fra l'altro c'è anche un'intervista che io ho già trovato anche in un testo di padre Stefano Caprio che tutta la faccina di Prigoggin l'avesse messa in piedi tutti stessi e anche qui c'è un'intervista a un rappresentante dell'intelligence USA che dice la medesima cosa alla fine Putin ha messo in piedi tutta questa cosa qui Prigoggin ha avvocato per identificare quelli che tentavano che attentavano al suo potere e farli fuori tutti è quello che sta avvenendo è il tempo da rischiare i conti per dire allora precipitato al muscolareo di Prigoggin la tv russa annuncia è morto nello schianto dieci vittime tutti i collaboratori di Prigoggin le autorità queste sono formazioni delle autorità russe a bordo il capo della Wagner e il suo braccio destro Utkin quindi quello che era operativo sul piano militare l'intelligence USA non conferma anche perché sapere come le cose vanno in Russia lo so soltanto di padre eterno poi le versioni discordanti sull'accaduto e il mistero del secondo volo vediamo lo avevano visto due giorni fa Eugenio Prigoggin in un videomessaggio registrato probabilmente in Africa affermava che la compagnia Wagner avrebbe continuato a giorgere i compiti che gli erano stati assegnati ma a due mesi esatti della fallita marcia della giustizia su Mosca è morto alle 18 e 22 minuti di Mosca il soggetto privato Lembraer Legacy 600 in foro da Mosca a San Pietroburgo dove lo abitava è precipitato nella regione di Tver vicino al villaggio di Cuzzienchino 300 chilometri a nord-est della capitale quindi andava da Mosca a San Pietroburgo stava facendo l'aereo improvvisamente saltato diciamo in sé inabissato abbattuto dalla contraerea russa ha subito accusato Grey Zone sul canale di Telegram è un esponente vicino alla compagnia Wagner pubblicando video dello schianto e foto dei presunti fori sui resti dell'aereo ipotesi che sembrava confermata da una residente locale che aveva detto di aver sentito diverse esplosioni prima che l'aereo si schiantasse ma gli esperti propendono per l'ipotesi di un attentato a bordo a giudicare dalla traiettoria del volo l'aereo acceso il transponder quando era già in aria come fanno a volte i jet privati ha osservato il consulente militare del servizio russo dal BBC Pavel Akzenov in quel momento in cui è stato colpito o comunque è esploso sorvolava a 3.700 metri di quota il suo borgo di Zelinograd la piattaforma flight trader ha registrato il volo dalle 27.59 alle 18.11 ora locale poi ha perso il segnale quando l'aereo è giunto all'altezza di Tver dove appunto è precipitato il video dell'incidente apparso online potrebbe indicare che c'è stata un'esplosione a bordo secondo l'esperto militare Jury Fedorov se fosse stato abbattuto da un missile della difesa aerea nel video sarebbe stata visibile una scia di fumo ha detto questo esponente militare all'agenzia indipendente l'agenzio in modo caotico con cui si è schiantato indicherebbe invece una perdita completa dei sistemi di controllo secondo i financial times che cita una fonte occidentale invece l'aereo sarebbe stato abbattuto dal sistema messilistico antiaereo russo con il solito tempismo era stata l'agenzia per il trasporto aereo Ros Vazia a confermare senta subito la presenza del leader della lista di 10 passeggeri e con lui Dimitri Utkin il fondatore comandante sul campo della compagnia di mercenari segno secondo il consigliere presidenziale ucraino Michailo Podiolak qui siamo in Ucraina di una connivenza dell'autorità o della semplice violazione dei protocolli ma resta il mistero secondo alcune fonti Brigogin si sarebbe potuto trovare non su quell'aereo ma su un altro dei tre veicoli riconducibili alla Wagner in arrivo all'aeroporto di Ostafevo a sud di Mosca cioè sulle cose che accadono in Russia si può scrivere dei romanzi poi alla fine non si sa mai chi è stato si era atteso lo sbarco poi alla fine diranno che è stato Biden farò cadere si era atteso lo sbarco perché nel 2019 i media internazionali avevano scritto sulla sua presunta morte in un incidente aereo nella Repubblica Democratica del Congo informazione che si era rivelata falsa quindi benché era accaduto fosse alle 18.30 a ora di Mosca i media internazionali non hanno subito pubblicato la notizia perché già una volta si era scritto su una sua presunta morte in Congo ma la conferma è poi arrivata prima dall'autorevole quotidiano Fontanka poi dal governatore della regione ucraina di Zaporizia annessa a settembre Vladimir Rogov infine attraverso i canali informativi della Wagner Keir Gils esperto russo di Kattaman House invita comunque la cautela molti hanno cambiato il nome in Eugenie Prigozhin nel tentativo di cercare i suoi viaggi non sorprendetevi se dovesse spuntare di nuovo un video dall'Africa quindi come vedete siamo nel campo delle supposizioni anche per quanto riguarda la morte fondi dell'intelligence americana dicono al New York Times che non è possibile confermare la morte di Prigozhin secondo gli americani dicono che non hanno elementi certi invece fondi del Cremilino riferendosi al golpe di maggio hanno detto a Medusa che Putin non perdona certe cose e che Prigozhin dopo il 24 giugno non l'aveva imparato nulla quindi il tradimento è stato e l'ha fatto fuori ma non tutti la pensano così alcuni pensano che anche la marcia di Putin la marcia di Prigozhin fosse un'invenzione di Putin l'incidente avviene in una giornata simbolica e a distanza di un giorno dalla rimozione dell'incarica del generale Sergei Surovichin un generale dell'area della diciamo così della Surovichin era il generale dell'area natica russa che era amico di Prigozhin era stato sospettato di aver architettato con Prigozhin l'ammutinamento di fine giugno e comunque era stato sollevato dagli incarichi non sono sorpreso non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro ha dichiarato Joe Biden il criminale invece non ha rilasciato commenti ufficiali il capo di stato Vladimir Putin nel momento dell'incidente era impegnato nella cerimonia di commemorazione della battaglia di Kursk quindi come vedete siamo in Russia alla fine non si sapeva se la marcia di Prigozhin era una marcia vera o finta adesso non sappiamo esattamente se è una morte sì vera ma potrebbe essere un'altra era un atto con quel nome chi lo sa dunque vediamo noi prendiamo gli articoli che ci servono per farci un'opinione almeno provvisoria comunque per i mercenari della Vanner la morte di Prigozhin è reale e hanno detto che si vendicheranno ma la brigata ora è lo sbando secondo il giornalista di Repubblica Daniele Ranieri vediamo allora anche qui cerchiamo di vedere se esce qualcosa di nuovo da questo articolo se la notizia della morte di Prigozhin sarà confermata organizzeremo una seconda marcia della giustizia su Mosca mi conviene che sia vivo scrive a caldo un commentatore su dei canali telegram usati dal gruppo Wagner il tono è minaccioso ma per ora è isolato e suona poco realistico perché a dispetto delle voci su un piano già pronto in caso dei morti del leader la brigata in questi due mesi è stata depotenziata e tutti gli angacci dentro le forze armate sono stati trovati e puniti cioè tutti simpatizzanti nell'esercito russo che era simpatizzanti per la brigata Wagner sono stati puniti piuttosto la reazione online dei mercenari russi nelle ore dell'abbattimento dell'aereo sono di altri due tipi il primo sono tutti sicuri che il loro capo sia stato ucciso per ordine del presidente Putin e non accettano spiegazioni alternative è stato ammazzato dai tramitori della Russia hanno scritto su Grey Zone il principale canale di comunicazione della Wagner rivolgendoci proprio allo Zara e ai suoi cioè quei della Wagner dicono che è stato Putin è stata l'antierea russa dicono ci sono testimoni dicono ci sono le immagini c'è il tracciato Radar a provarlo non veniteci a dire scrivono con sarcasmo che uccidono sono stati i servizi occidentali o magari il generale Budanov il temuto capo dell'intelligenza militare ucraina che è salito a bordo ha tagliato le ali con lo saghetto di ferro e poi è saltato via con le paracadute cioè quelli della Wagner dicono appunto è punto il mito contro Putin e dicono adesso ti diranno che è stato o l'intelligenza degli Stati Uniti o l'intelligenza dell'Ucraina a ucciderlo i musicisti cioè quelli della Wagner e il nomignolo che ci sono dati i combattenti di Prigozhin avranno senz'altro notato che al momento della notizia Putin si è fermato a riprendere delle telecamere Putin si è fatto riprendere delle telecamere mentre faceva con camere su ingresso in un concetto a Kursk ma poi metto via in anticipo ecco qua vedi loro hanno stato questo che nel momento in cui è stato fatto saltare l'aereo Putin si è fatto riprendere delle telecamere mentre faceva con camere su ingresso al concetto a Kursk ma poi è metto via in anticipo ci ha fatto via per sapere com'è andata ovviamente sono ipotesi che si fanno che fanno quelli della Wagner il secondo tipo di commento dei mercenari è questo dovevamo andare fino in fondo il 24 giugno quando abbiamo marciato su Mosca e poi ci siamo fermati chi non fa le cose fino in fondo finisce male e così è stato cari amici dovevano applicare il detto morse tua vita mia cioè se vogliamo sopravvivere come quella la valle dovevano andare fino a Mosca e prendersi il potere non l'hanno fatto e l'hanno perso questo sono commenti loro ecco cosa scrive un canale Wagner lo stesso che diede in esclusivi i dettagli dell'accordo fra Bigogin e il dittatore bielorusso Lukashenko dopo il tentato golpe dice che sia di lezione per tutti è necessario fare le cose fino alla fine quelli che pensavano che la rivolta dei muticisti fossero messi in scena eccovi un bel ciao era tutto vero secondo lui lui era il politico più promettente di Russia ma si è spaventato e ha rinunciato a Ceprigojin così ha firmato la propria condanna a morte cioè in poche parole quelli di Wagner dicono dovevamo andare fino in fondo nella rivolta e far fuori Putin abbiamo esitato e è stato lui a far fuori noi sono i loro commenti questi altri ricordano cosa accade in Donbass nel 2015 e 2016 quando alcuni comandanti dei separatisti furono uccisi in attentati attribuiti ai servizi russi Putin si disse sta facendo piazza pulita dei suoi perché sono troppi requieti e non li obbediscono agli ordini adesso è lo stesso commento se soltanto i servizi russi fossero così efficienti contro il nemico come lo sono con chi cerca di cambiare meglio le cose insomma i servizi segreti russi sono imbattibili quando si tratta di far fuori i nemici interni però non scherzano neanche con i nemici esterni perché voi pensate al detentato di Ali Khan e chi c'era dietro San Giovanni però secondo non lo fa capire nessun libro memoria di identità fa capire chi ha voluto la mia morte e ci invita a guardare la mosca quindi e cosa si è scoperto si è scoperto niente un canale telegram di solito viene informato sul mondo dei servizi dice che i brigosi lunedì era appassi in un video girato sulla pista di un aeroporto militare in Mali stava tornando in tutta fretta a Mosca per bloccare il piano di Andrei Averjanov vice dei servizi militari dell'esercito si chiama GRU sono i servizi segreti dell'esercito che voleva sostituire la Wagner con la creazione della nuova brigata di 20.000 uomini destinati all'Africa quindi mentre i cinesi mandano in Africa i stessi cinesi a lavorare e i russi mandano in Africa i militari insomma e siccome quelli della Wagner non erano più affidabili ha deciso di fare un'altra brigata di 20.000 uomini destinati dall'Africa queste sono notizie diciamo così voglio dire non è che siano inventate sono notizie che credo che siano verificabili ora si sta pensando chi possa essere stato chi ha organizzato nel concreto l'attentato ma a riguardo se troppo presto farete l'ipotesi ora la decapitazione del gruppo Wagner potrebbe essere la fine dell'operazione dei suoi mercenari russi in Africa e senza indicazioni chiare e immediate gli uomini allo sbando potrebbero non avere altra scelta che farsi assorbire da nuove fazioni più leali con Putin lo stesso Perigojin aveva detto che la Bielorussia al momento la Bielorussia ospica mercenari del gruppo Wagner a meno due caserbe ieri sera rimasti senza internet era soltanto una tappa temporanea per il trasferimento nei paesi africani e quindi non doveva essere considerato un rifugio per sempre ieri sera secondo alcune discrezioni i mercenari avrebbero cercato di lasciare i paesi in massa quindi cerchi di darci la fuga certo è che il futuro della VAC nel Sahel cioè nel sud del Sahara e nel resto dell'Africa è al tramonto cambieranno nome manderanno gli altri perché Putin nel suo obiettivo di fondo che è la ricostituzione dell'impero russo se c'è da usare le bombe atomiche amminacciate lui d'altra parte allora adesso abbiamo sentito le notizie che vengono dalla Russia commenti che vengono dalla Wagner poi cari amici siamo siamo in Russia non sappiamo ancora esattamente se la famosa avanzata di Brigogin fosse incombuta con Putin oppure fosse veramente qualcosa di sovversivo non lo sappiamo con esattezza per esempio questo generale interpellato da Repubblica il generale americano Wesley Clark ha qualche dubbio al riguardo e pensa che sia Putin che ha organizzato tutto anche la famosa marcia di Brigogin comunque secondo questa intervista che è interessante adesso ve la leggo da questo attentato insomma da questa spettacolare uscita dalla scena di dei capi della Wagner viene lanciato da Putin un messaggio al mondo su chi comanda Mosca cioè comando io e zitti tutti secondo l'ex comandante della NATO Wesley Clark si tratta di una sofisticata operazione di intelligence per liberarsi dei suoi rivali vediamo allora l'ex comandante supremo della NATO Wesley Clark ha un sospetto l'intera vicenda di Brigogin ha le caratteristiche di una sofisticata operazione di intelligence russa orchestrata per identificare i generali infedeli trasferire alcune forze da combattimento in Bielorussia ed eliminare un potenziale rivale di Putin cioè Brigogin di sicuro è anche un messaggio lanciato all'occidente perché dimostra che lui ha ancora il potere nelle sue mani e farà qualunque cosa per conservarlo quindi questo mi sembra una lettura abbastanza concreta vediamo allora alcune domande e risposte che cosa ha pensato quando ha visto le immagini dell'aereo che precipitava forse non sapeva risposta di Wesley Clark che era l'est comandante della NATO che cosa ha pensato quando ha visto le immagini dell'aereo che precipitava dice forse non sapremo mai tutta la verità su questo episodio ma è molto difficile credere che si sia trattato di un incidente ovvio cosa glielo fa pensare la sequenza degli eventi e i loro effetti pratici se osserviamo con attenzione prima c'è stato il presunto tentativo di colpo di stato poi sono seguiti le resa di Brigogin il trasferimento forzato dei suoi mercenari di Wagner in Bielorussia il completo asservimento a Mosca del leader di Minsk Lukashenko lo spostamento di forze da combattimento e testate nucleari nel suo territorio è chiaro che Putin sta preparando una guerra a lunga scadenza è ovvio e ha bisogno di fare la pulizia nell'esercito anche fuori eliminare tutti quelli che si incontrano questa operazione speciale nello stesso tempo dice il generale Wesley Clark è stato esautorato il generale Serghei su Rovichin che era il capo era il capo dell'Aronatica russa e almeno altri 15 altri ufficiali russi sono stati identificati come infedeli e allontanati ora il cerco si chiude con il presunto incidente aereo che completa la pulizia eliminando il pericocin ci sono tutti gli elementi dice Clark di un'incredibile operazione di intelligence cioè praticamente una una che ha visto per esempio quando è stato organizzato in Germania l'attentato a Hitler che poi non ebbe buon esito diciamo c'era tutta una serie di generali dell'esercito che erano dietro questo attentato Hitler non se n'era accorto però dopo che è spugito all'attentato fu una polizia radicale ora Putin l'ha fatta prima diciamo quindi domande di Repubblica il tentato colpe di Brigogin era stata una farsa ve l'ho già detto che questa idea qui è stata presentata da molti ma non presa in considerazione lui risponde se prestiamo attenzione alle speculazioni dell'intelligence non mancano le voci secondo cui è stato tutto screstrato fin dal principio da Putin anche padre Stefano Caprio riporta queste voci magari il capo del creminino sta solo sfruttando a suo vantaggio le circostanze però ci sono tutti gli elementi di una sofisticata operazione di intelligence pensata fin dal principio per individuare i generali infedeli eliminarli e riposizionare le truppe domanda all'inizio si diceva che il tentato colpe aveva mostrato la debolezza di Putin anche perché non aveva avuto la forza e il coraggio di eliminare subito Brigogin era vero il contrario? risponde il generale Clark Putin è un insicuro e teme di essere spodestato però è chiaro che questo evento rappresenta la fine di una rivalità se Brigogin aveva qualche popolarità nella società russa ora non può più minacciarlo ci ha fatto fuori un rivale che alla fine poteva anche tentare di prendere lui il comando domanda di Repubblica a questo generale Clark che era l'escapo della Nato quindi comunque una persona informata diciamo che cosa significa questa vicenda fuori dei confini nazionali risponde si tratta chiaramente di un messaggio inviato anche all'occidente per dimostrare che il capo del creminino resta pienamente in controllo del potere cioè saldamente in sella alcuni analisti avevano speculato che la vicenda di Brigogin dimostrava la debolezza di Putin la sua fine invece conferma che Vladimir Putin ha ancora in mano tutte le leve del potere e avverte l'occidente che farà qualsiasi cosa per conservarlo su questo io non avevo dubbi domanda che impatto avrà quel sulla guerra e come giudica l'andamento della controversiva di Kiev è interessante la risposta perché in generale i giornali dicono che la controversiva di Kiev ha raggiunto nessuno scopo è stata un nulla di fatto lui invece la pensa diversamente e risponde il progresso ucraino è dettato dalla resistenza sul campo di battaglia cioè in poche parole gli usi hanno messo delle barriere invalicabili ovvio che gli ucraini possono fare miracoli dice i campi minati sono ostici e Kiev non dispone della potenza aerea che le forze NATO potrebbero garantire prima di iniziare un'offensiva del genere cioè come si sa tutti sanno che prima di scatenare una battaglia con gli uomini si manda a bombardare ma gli ucraini non hanno ieri adatti l'Ucraina però dice il generale Krak ha svolto un lavoro ammirevole nel preservare la sua forza di combattimento questa lotta continuerà ancora per qualche tempo e mi aspetto che Kiev continuano a riconquistare il territorio occupato dalla Russia quindi l'Ucraina ha fatto sapere che per loro comunque che Brigozzi in vivo Brigozzi morto la loro guerra per riconquistare i territori che secondo anche l'ONU appartengono a diciamo così a loro sono loro è chiaro è chiaro continueranno fino alla fine poi ognuno farà con chi potrà dove amici questi erano erano articoli con i quali al momento abbiamo cercato di capirci qualcosa e qualcosa di più lo capiremo nei giorni prossimi però devo dire che adesso non voglio andare oltre perché ormai siamo quasi arrivati alla fine però l'ho messo sul nostro sito internet un bel articolo del Corriere che è una ricostruzione di tutti gli attentati che ha fatto Putin di carattere politico e quindi credo che sia il cinquantesimo giù di questo articolo non lo porto con me perché si annuncia qui fin troppi è un articolo del Corriere che ricostruisce tutti gli omicidi suicidi dell'era Putin avvenuti e in Russia e anche in altre parti in tante parti del mondo pensate scrive il Corriere che dall'inizio del conflitto in Ucraina nasce un anno e mezzo sono state 39 le morti misteriosi di personaggi che avevano a che fare con il presidente russo poi i casi e poi che fa tutta una serie di casi di suicidi omicidi cioè sono tra decine e decine i nemici giurati di Vladimir Putin che hanno fatto una brutta fine incidenti spiegabili aggressioni suicidi veri e propri omicidi eccellenti una scia di sangue che si snoda nel tempo dei primissimi anni del 2000 ad oggi lui è venuto al potere nel 1999 naturalmente si tratta di episodi collegati al cremerino del tutto casualmente almeno fino a proprio contraria il sito GB Newscom è inglese questo sito ha calcolato che solo dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina cioè un anno e mezzo sono state 39 le morte misteriose di personaggi che avevano a che fare con il presidente russo e qui il Corriere li elenca tutti ma non credo che sia di vostro interesse insomma però vi indicano un metodo di governo un metodo di governo di cui perfino Nerone si vergognerebbe beh lasciamo perdere intanto per Putin c'è già Kirill che prega cui intercederà a lui non so cosa dire cari amici quello che mi dispiace è che siano cristiani questi purtroppo è così che abbiamo imparato nulla dal Vangelo non è che gli altri siano migliori mi ricordo quello che diceva padre Martin quello che conosce il segreto di Fatima e che non l'ho mai rivelato però ha fatto capire qualcosa lui ha detto che anche nel tempo nel tempo dei segreti c'è la Russia dietro che manovra non ho usato la parola segreti però insomma la sostanza era quella è la Russia che dietro che manovra ha detto e ha detto noi americani siamo cattivi ma tanto cattivi ma mai quanto lo sono quelli del regime volshevico ha detto per dire fino a che punto sono in grado di arrivare ma lui parlava di quello che avrebbero fatto nel futuro noi americani abbiamo fatto cose gravissime pensate le bombe attorniche in comunque in Giappone poi comunque sia lui diceva un po' ma che ne ha fatte tante brutte ma mai mai arriveremo al punto in cui arriveranno questi che sono poi i sovietici sono sempre quelli insomma sono sempre la compagnia del dragone rosso insomma lui parla l'apocalisse diceva mai arriveremo a fare quello che fanno loro che faranno loro lui parlava di quello che sapeva questo sono affermazioni di padre martin fatte da una signora che era la sua assistente quindi è stata una conferenza del 2013 che ha fatto questa signora degli Stati Uniti e ci ha dato tutte queste informazioni di cui io ho fatto una piccola sintesi in un mio editoriale adesso siamo arrivati alla fine della nostra lettura cristiana della collega della storia allora ieri c'era una ieri c'era una diciamo una in me molto interessante di un ragazzo che diceva chiedeva a me personalmente siccome aveva letto degli attacchi a Međugorje era entrato un po' in crisi e chiedeva personalmente se avevo mai avuto dubbi riguardo a Međugorje ecco io poi gli ho risposto ampiamente a questo ragazzo che si chiama Marco e gli ho detto quello che so cioè io ho mai avuto nessun dubbio quindi però ho detto anche cose importanti cioè io certamente credo con gioia e con fermezza senza fanatismi e rispettando chi non ha la grazia di credere però ho aggiunto questo ci sono decine di milioni di persone che rispondendo alla chiamata sono andate pellegrine a Međugorje in particolare molti decine di migliaia di sacerdoti 40.000 40.000 all'anno sono andati in questi 42 anni molti sono andati tante volte però insomma è una è una presenza di cui anche il delegato del Papa ultimamente si è compiaciuto insomma di questa presenza di sacerdoti anche molti insigne e personalità della chiesa credono alla parte di Međugorje non solo San Giovanni Paolo II ma anche non pochi cardinali e vescovi il più celebre è proprio il cardinal Schoenberg che fra l'altro erano i teologi maggiori della chiesa ogni tentativo di silenziare Međugorje è destinato a fallire ha detto una volta un veggente cioè Ivan è l'occasione di un anniversario non sono sue parole esatte ma il concetto era quello quindi vorrei dire non è che sono io che ci credo no c'è tutto un movimento amplissimo notevole di sacerdoti a migliaia fedeli a milioni e anche decine di vescovi e forse qualche decina di cardinali non lo so ma ci sono come no la Gospa quindi è qui per vincere la sua grande battaglia contro la Serbia infernale la vincerà con il nostro aiuto quindi a mio parere la certezza anche sotto il profilo della credibilità umana è per me personalmente fuori discussione adesso cari amici stamattina mi è arrivato improvvisamente perché non l'avevo letto ieri sera un'email di Michele Dallodi che è molto interessante perché perché fa delle domande a cui è ora di rispondere però ho notato mentre io mi impegnavo a rispondere a queste sue domande che c'è una certa incertezza e quindi mi chiedo per me non c'è ancora una preparazione all'inizio dei segreti cioè l'inizio dei segreti ha bisogno della preparazione anche dal punto di vista concreto di come verrà l'annuncio ma non c'è per ora che io sappia allora lui chiede Michele Dallodi e questa è una lettera importante anche la mia risposta interessante cioè pongo delle domande anche io ai responsabili di Međugorje cioè lui dice chi farà l'annuncio dei segreti punto primo perché non è ancora sicurissimo secondo in quale luogo avverrà non è stato detto penso vedremo e attraverso quali mezzi di comunicazione avverrà queste sono le sue domande io ne aggiunto anche altre che ti presentano una problematica non facile da risolvere allora io ripeto le domande così anche voi potete dare risposte secondo le vostre informazioni cioè chi farà l'annuncio dei segreti in quale luogo verrà fatto l'annuncio dei segreti e attraverso quali mezzi di comunicazione verrà fatto tenete presente un particolare che io ho sottolineato nella mia risposta che siccome i segreti sono legati al segreto quando verrà fatto un annuncio ci sarà nessuno che ascolta perché non si può dirlo prima insomma io nella risposta ho messo in evidenza tutta una serie di problematiche che non sono state ancora risolte allora chi vuol vedere questo è un altro metodo nella concretezza poi ma quando ci si avvicina bisogna regolare il traffico allora chi farà l'annuncio dei segreti dove verrà fatto l'annuncio dei segreti attraverso quali mezzi di comunicazione verrà fatto l'annuncio dei segreti poi la domanda delle domande cosa farà la chiesa dunque andate a vedere la mia risposta a queste domande e altre che io ho sollevato sul blog la risposta mi creda lodi attraverso google e blog di padeliglio punto it attraverso invece il nostro sito che era domedia punto it in alto a destra c'è l'icona dei blog entrate e vediamo se è possibile di cominciare a disboscare come dire nella concretezza tutto ciò che dovrà in qualche modo essere ordinato già dall'annuncio del primo segreto d'accordo che le cose di Dio sono improvvise però noi sappiamo che comunque per esempio a ragione mi chiederò di attraverso quali mesi verrà diffuso sono cose che non si possono improvvisare con questo cari amici siamo terminati la nostra lettura che mi stiamo andando anche della storia e vi ringrazio cari amici dell'ascolto siamo verso la fine del mese abbiamo bisogno da parte vostra cari amici del sostegno a Radio Marie che è stato molto infimo basso nel mese di agosto più che negli altri mesi c'è anche tanta voglia degli italiani di riprendersi un po' diciamo così degli stati passati che ci hanno visto un po' penalizzati come movimenti adesso si sono presi un po' di giustamente di aria fresca e nuova però insomma la radio deve andare avanti ha bisogno del vostro aiuto ha bisogno di tutti voi cari amici avete sentito tante volte i nominari Telegram è un sito che ha origine russa è un social che è di origine russa ma che ha un pregio che è libero quindi non è come Facebook o come YouTube che se metti una cosa che non è secondo le loro idee ti cassano e ti minacciano di toglierti tutto a noi è arrivata un paio di volte una volta da Facebook una volta da YouTube la minaccia qui su Telegram si può scrivere quello che si vuole e noi abbiamo abbiamo deciso di lavorare come Radio Maria Italia anche su questo canale abbiamo delle soddisfazioni stiamo viaggiando verso i 3.000 posti forza ragazzi è bello viene bene siamo molto contenti di servire la Madonna anche attraverso il canale Telegram e quindi anche servire la Madonna con i suoi messaggi anche questo canale che è internazionale adesso e che è veramente libero per cui molti lo usano però non è che siano pochi per ora sono 700 milioni che conoscono nel mondo se voi andate sul nostro sito all'internet in alto dove ci sono tutte le icone i segnetti dei vari social cioè di Twitter di Facebook eccetera di YouTube e l'ultimo a destra è proprio quello di Telegram e potete entrare visitarlo vederlo iscrivervi con questo è terminato la realizzazione del carame c'è sempre sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria Grazie